Arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona boschiva di via Valle Mulini a Finomornasco. Ieri sera i militari della stazione Carabinieri di Finomornasco hanno arrestato due persone, un trentenne marocchino in Italia senza fissa dimora e regolare sul territorio nazionale e un uomo di 41 anni italiano domiciliato nel Canturino responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno denunciato la presenza di uno strano via Valle di persone sospette nel bosco. Ieri sera il blitz dei militari che si sono mimitizzati nella fitta vegetazione hanno raggiunto la zona indicata dai cittadini e accerchiato gli spacciatori che sono stati fermati. I due uomini sono stati trovati con 147 grammi di hashish, 93 di cocaina e 68 di eroina per un totale di oltre 300 grammi di droga. Poco più di 2000 euro in contanti, 8 telefoni cellulari e materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato e due si trovano nel carcere Bassone di Como.